un zombie apocalips eccomi qui ragazze con un nuovo video prodotti fiuti mangereci e non lo so cos'altro c'è quindi andiamo subito al dubbio allora come primo prodotto di recensi aspettate un attimo qua c'è la busta qua da sta parte non so se l'avete notato oddio c'è anche un capello vabbè c'è un altro qui vabbè lasciamo stare comunque questo qui l'ho terminato non so se siete accorti sì c'è certo penso di sì comunque l'ultra dolce verner maschera riparatrice intensa questa è molto buona fantastica adoro adoro perché fa veramente un ottimo profumo e soprattutto sproglia e impregna bene il prodotto i capelli lì sproglia veramente all'estremo come posso dire no aspettate sì in teoria mi sproglia bene bene il capello e me lo fa veramente durare un bel po' di tempo quindi ve lo consiglio perché mi piace ma soprattutto perché amo rubidisce per il capello quindi top e mi piace poi non proprio perché è un po sozzoso quindi per il caso come prodotto mangiareci invece vi consiglio questa qua che è della De Cecco ed è questa qua questa pasta che cos'è penne penne rigate numero 21 numero vabbè comunque questa qua della cottura al dente 8 minuti De Cecco e poi questa della De Cecco sempre doppia poi questo yogurt fenomenale al cocco io adoro tutto ciò che parla di cocco mi piace poi questi dischetti struccanti maxi dischetti struccanti ovali 70 pezzi mi piacciono davvero da matti quindi adoro perché struccano la qualunque fanno un po fatica a volte quando le metto poco di di a come cellare però lo fanno lo stesso sul bel lavoro di struccare benissimo non fanno molta fatica ma appena sì però io ci vado giù dentro lo di polso è sbagliato ma quando va di fretta non si dovrebbe andare di fretta però vabbè non commenti allora mantovani bagno doccia neutro e formula extra delicata questo è il mio pagno scrivo preferito top fenomenale poi lo metto qua se non mi cade no poi anche questo il poliagenico fenomenale anche questo lagartineo adoro ma madonna cos'è poi quest'altro gli ultimi anche questo tra la vaniglia anche queste non è male per niente fenomenale buono perché sono tutti buoni perché appunto come ho detto un altro video skin care e beauty della casa i geni della casa mi piacciono davvero tanto cioè cioè che non seccano la pelle come fanno altri bagno doccia ultimo ma non per importanza ci vado a nozze sempre con questa nozze significa che mi trovo d'amore d'accordo questo colluttore della lister in cool mint vabbè rimuove fino al 99 per cento dei batteri che possono causare altro cattivo odore vabbè quello che insomma rimuove i batteri causa di placca alto alto cattivo che con lo spazio non riesci ad eliminare ovvio questo qua quindi top e c'è lei ci può 100 mila di prodotto per 12 mesi di pao quindi fantastico non c'è che dire mi piace ve lo sta consiglio se lo trovate in offerta da non so d'acqua sapone tigota qualche ve lo consiglio perché è davvero eccezionale e fa veramente un buon profumo top niente ragazzi questo era tutto a una recensione sul dexal quello per la pari per pulire i vetri mi ci sto trovando bene non ho detto un altro video lo dico qua dexal lo quasi lo sto quasi terminando ma non ve lo mostro qua ma ve lo dico anche se intanto non metterò né foto né niente che nel montaggio però ve lo dico a voce praticamente il dexal quello all'ammoniaca vetri e specchi fenomenale fantastico mi piace perché pulisce bene i vetri e soprattutto anche se ti stanche di stra pulire è fantastico mi piace perché lascia il vetro bello nitido e pulito fantastico a posto ragazze ciao un bacio e scusatemi ancora per il trastuono di tutti questi prodotti che non si copieva nulla di come l'olison city a meno spero che non sia così però come pasta io preferisco questa pasta qua appunto a parte scherzi è troppo buona e mi piace perché mi ricorda molto come dire la mia la mia infanzia e quindi top brava dexal ci piace ci piace così continuo così e ricondura riprodurre continua a riprodurre scusate la dexal perché veramente gustosa e buona e anche a un ottimo come si può dire quando la mette in bocca sa proprio di casa molto buona mi piace per quanto riguarda i riscetti no comment mi piacciono da morire riscetti strucanti dell'euro spin fenomenale mi ci trovo bene non si sfaldano quindi approvati approvatissimi bene ragazzi questo è quanto se il video vi è piaciuto sapete cosa volete fare le hai che il commento e a presto al prossimo video ciao tanto per posto e nel frattempo di che non creare perché dopo ad opera che il video svuota la spesa se riescono lo solito vediamo un po se lo faccio se non lo faccio non ne ho idea tanto qua e metto tutto a posto perché devo fare anche la raccolta indifferenziata prima che esplode il mio armazio non si sa mai voglio evitare ok bene a seconda se mi sono fatta un po prenderti la mano che sono andata lì sono sparita per un secondo ma penso che lo taglierò se lo taglierò non ne ho idea e niente aspettate un attimo sono quasi no sono già le 11.37 basta ciao presto un bacio e grazie ancora dell'ascolto e grazie ancora della compagnia ciao ciao